Ancora più oggi, dove mi pare di capire il Presidente americano non nutre molta fiducia nell'Unione Europea, è il nostro dovere rafforzarci, essere insieme, appunto ancora di più a chi dice America first, noi dobbiamo rispondere Europe first, perché se noi invece cadiamo nella trappola di dividerci, noi faremo solo gli interessi degli altri. Grazie.